Cari amici, sono Catena Fiorello, scrittrice e appassionata lettrice. Ogni tanto ho piacere di consigliarvi i libri che mi hanno colpita, che mi hanno lasciato qualcosa dentro. Libri che sicuramente meritano una particolare attenzione, di essere consigliati alle persone che guardano i nostri video, che guardano le nostre pagine social. In questo caso parlo di un libro che si intitola L'ultimo abbraccio scritto da Gianetto Regassani. Gianetto Regassani, come molti di voi sicuramente sapranno, è conosciuto per essere un bravo, insomma, esperto, avvocato matrimonialista, specializzato in diritto di famiglia, diciamo ad ampio raggio internazionale, penale, civile, relazioni familiari. Infatti in televisione spesso lo vediamo come opinionista o consulente di programmi televisivi. E invece in questo caso Gianetto Regassani, l'avvocato Gianetto Regassani, ci fa un bellissimo regalo, perché scrive un romanzo, un romanzo vero e proprio, la storia di un uomo, Dimitri, il protagonista, 58enne, che in qualche maniera, come spesso accade a noi, fa i conti con un passato che è rimasto in sospeso. C'è una donna che riceve una lettera, Maria, sua sorella, da questa lettera che riceve Maria cambia un po' il destino di entrambi, ma non solo di entrambi, di tutte le persone che poi andando a ritroso nel tempo scopriamo. Si parla di bambini, di un'immagine di questi bambini che sono rimasti lì fermi nel tempo passato, invece in un attimo ritorna tutto indietro e si rivivono, diciamo, e sentimenti, e proprio vissuto vero, concreto, dentro queste pagine. Quel passato che ritorna inevitabilmente, quel passato che spesso lasciamo con ferite sanguinanti e lo ritroviamo. E proviamo a mettere anche dei cerotti a queste ferite, e proviamo a mettere anche la parola perdono sopra e soprattutto la speranza di guardare avanti con una nuova consapevolezza. Quindi anche qui l'Avvocato Gianettore Cassani in qualche maniera ci parla sempre di famiglie, ci parla sempre di legami mai spezzati che però possono portare anche dolori, dispiaceri. Quindi la famiglia al di sopra di tutto e i legami di amicizia. Leggetelo, vi dico solo questo, non mi prolungo, ma leggete perché l'Avvocato Gianettore Cassani ci ha dato prova che si può riuscire a essere bravissimi avvocati e nello stesso tempo trovare il tempo per scrivere una storia davvero bellissima. Grazie a tutti.